Carlo, partiamo da te, dal tuo studio, i campi d'applicazione progettuale. Allora, noi ci occupiamo, siamo partiti trent'anni fa domani. Ah che bello, trent'anni fa domani. Sono momenti dei trent'anni di studio, quasi i miei di lavoro. Sì, compiamo trent'anni. Allora, trent'anni fa con il restauro architettonico di ville e chiese, per cui in rapporto con la sovrintendenza, per cui abbiamo una matrice molto legata alla storia e alla storico-artistica. Poi ci occupiamo di progettazione, contemporanea evidentemente, dove però ci piace unire un linguaggio molto razionale, molto pulito alla parte decorativa, per cui creare questi anche, questi piccoli cortocircuiti che ci piacciono molto. Ci occupiamo di, beh, di ristrutturazioni, va bene. Il core business dello studio è l'interior, l'interior design, dove cerchiamo di legare il nostro linguaggio ascoltando evidentemente i clienti, più o meno esigenti. Però è sempre una bella avventura di educazione reciproca, comunque, perché io imparo sempre anche dai clienti. E alla fine è design del prodotto da circa vent'anni. Questi sono. Qual è il progetto o i progetti del momento che vuoi raccontare a fuori studio? Allora, ultimamente ci stiamo concentrando su due progetti molto importanti di interior design. Uno è in centro a Vicenza, in palazzo storico, tra l'altro che ha queste finestre molto grandi che guardano un palazzo di Andrea Palladio, per cui ovviamente non proporrò le tende, evidentemente, dove tutto, diciamo, è legato per volontà della cliente al linguaggio di Franco Albini, giopponti degli anni cinquanta, per cui legni naturali di rigatini, tessuti d'arredo, eccetera. E poi un secondo lavoro, invece, dove lì, al contrario, devo frenare il cliente perché è estremamente decorativo, per cui stiamo proponendo delle sale, anche questo è un lavoro importante, in una casa già esistente. Questo ha un grande salone di 80 metri quadri, dove andremo a proporre colore e in contrasto una serie di stucchi di gesso, per cui, ecco, ogni lavoro è un'avventura, è uno studio, ma è il nostro lavoro da trappare. Colore che è tornato tanto dopo anni di minimale, voglio dire, poi tu hai lavorato tanto anche sul mosaico, sul te. Io non sono mai stato minimale, sinceramente. Però adesso è molto più richiesto, accettato, anche in altri ambiti, anche in ambiti diversi rispetto a un tempo. Cioè, noto questa ricerca. Tu accenni al mosaico, ecco, un'altra cosa su cui sto lavorando è la presentazione di una nuova collezione che disegno per Bisazza. A cui sei legato, storicamente. Qui sono indissolubilmente legato da 21 anni. Posso dire che lo siamo tutti, perché siamo o clienti o progettisti o comunque. Ecco, e per loro presenteremo al fuorisalone in via Solferino, in showroom, Bisazza. E anche lì tutto il discorso dei formati, dei supporti, eccetera. Ti faccio, prima di andare sulla domanda della nostra intervista, che poi è quella del mondo outdoor generico, una domanda invece sui materiali. Visto che hai parlato di mosaici, hai parlato di colori, i supporti, no? Il vetro, gli intonaci, i tessuti. C'è stata una rivoluzione anche in questo senso, no? Perché sono sempre più performanti questi materiali. Assolutamente. E ci sono anche dei linguaggi un po' pericolosi di cose che imitano altra, no? Ecco sì, quello sì. Sì. Beh, io ricerco sempre, anche lì, la decorazione però in maniera pacata oppure opacca. Mi piace molto adesso, infatti la nuova, beh no, non dico nulla perché non posso. Però ecco… Embargo, sai cosa bella? Però è sottoembargo. Spoilerare. Spoilerare, come dicono i nostri figli. Esattamente. Senti, invece per quanto riguarda l'outdoor, sembra un po' in contraposizione all'interno. In realtà sappiamo che ultimamente c'è stato questo viaggio di andata e ritorno, tra dentro e fuori. Anzi, addirittura spesso quello che si pensa per fuori poi entra in casa. Ti capita? Qual è la tua idea sul progetto outdoor? Io cerco di fare il contrario invece. Di portare fuori. Quello che nasce in casa, proprio per cortocircuito, ho anche posizionato una volta un caminetto francese in marmo, ricordando un lavoro di Le Corbusier, in una terrazza. Cioè mi piace creare questo… Beh, allora, nelle mie case… Spasamento. Esattamente. Nelle mie case cerco sempre dove posso di prolungare la casa in esterno e le cucine le pongo in maniera baricentrica, tra la sala da pranzo, perché sia comoda, sia la sala da pranzo, perché d'estate, proprio perché ci sono anche questi teli, queste pergole, giusto? Si può anche mangiare all'esterno. Per cui mi piace usare il legno… L'outdoor bioclimatico, come viene detto. Il legno, magari un arredo anche più classico, se vogliamo, però in contrasto con la tecnologia dei velari, delle tende, delle pergole, eccetera. Per cui mi ritrovo molto incorrato in questo, ma non è una piaceria che dico… È proprio perché è così. Ci sono… Il discorso che facevo prima di questo rapporto quasi contrastante tra la tecnologia, le forme pulite e anche i tessuti, i cuscini, la morbidezza, eccetera. Mi piace proprio questo linguaggio qua. Tra le altre cose interessanti che hai detto, questa dei percorsi. Spesso si presentano, si pensano i locali, le residenze a sé, no? Paratattici e non sintattici. In realtà bisogna pensare anche ai percorsi. Tu hai accennato a questa idea della cucina, no? Che è baricente rispetto alla casa. E bisogna stare attenti. Spesso magari uno piazza la cucina da una parte… Esattamente. Poi non usi la terrazza. Con il carrello delle vivande. Che è bellissimo. È bellissimo, ad altri tempi però. Esatto. Senti, per chiudere questa breve, bella chiacchierata, una parola chiave o una locuzione che ti contraddistingue? C'è la sorpresa? Sì. Allora, un cioccolatino. Grazie. Perché nel cioccolatino ho trovato la parola chiave, che poi è molto più bella della mia frase, però questa la dico. La bellezza è una luce nel cuore. Questa è la mia frase. La bellezza e l'armonia è quello che io cerco di proporre ai miei clienti. Mi sono un po' anche emozionato perché è così. Evviva, grazie. Grazie Giorgio. Grazie, grazie a tutti. Grazie.